Ciao Vogue, sono Matilda e mi sto preparando per lo show di Bottega Veneta di stasera. Sono entrata in stanza appena arrivata e c'è la doccia che è grande praticamente come la mia camera. Cioè qua uno dorme anche dentro la doccia così. Mi piaceva questa cosa, i capelli alzati, sai perché? Perché comunque questi orecchini grossi anche che mi ha dato Bottega Veneta che secondo me si risaltano bene così. Ho tagliato la frangetta quando era due settimane fa, ero stanca sai cosa di vedermi sempre uguale, però ci ho avuto un attimo che ho detto oddio. Che sai quando cambi look sei un po' esposta, c'hai sempre un po' quell'ansia che comunque qualcuno non sai che ti dicono insomma quando fai questi cambiamenti. E' stata molto ben accolta, sono molto contenta. Sta molto bene. Sì, molto molto. C'hai un po' di palma intanto che mi sento tutta? Io ho un problema con il palma che me lo devo mettere tipo ogni 20 secondi. Cioè mi sento subito che il mio cervello comincia a funzionare. Grazie. Sai cos'è il mio problema? Che io me ne mangio tanto le labbra. Ho questa tendenza. Ma che cos'è? Una cosa di boh, di follia. Forse. E' la mia follia. Può essere. No, è su tutto il genolo. Io non amo essere particolarmente pasticciata, però mi rilascio in realtà, non mi truccano, non mi fanno i capelli. Soprattutto i capelli, quando ti toccano i capelli, no? È in trance. È in trance, sì. E qua, e qua. Ah sì, lui. Oggi abbiamo un amico. Sempre nei momenti. No, ma io che nei momenti, io 3, 6, 5 l'anno, quanto mai non ho l'acne. Sparito totalmente. Lui io non ho mai visto, non c'è, non esiste. Eyeliner verde, tributo, bottega Veneta. Perfetto, bellissimo anche i capelli. Brava. Grazie. Ok. Brava, qualcosa fuori. Qualche filo fuori, sì. E qualcosa dentro. Anche perché gli orecchini sono talmente grandi che si vedono. Sì, si vedono anche in mezzo alle cose. Vogue, devo un attimo vestirmi e torno fra poco. Qua abbiamo l'invito. Oh, ma guarda che bella. Eh vabbè. Stupendo. È tipo un cinturino. Questo qua è proprio intreccio a bottega Veneta. Le scarpe. Ce la farà. La giacca è chiusa o aperta? Aperta, sì. Aperta. 100%. È un peccato che non è di giorno, eh. Perché questi occhiali, guarda, cioè, la completavano benissimo. Guarda. Ok, vedi. Ho rovinato tutto il trucco. Complimenti. Le scarpe poi sono comodissime, ragazze. Cioè, è un supporto proprio totale. No, non l'avresti detto. E invece sono... È sempre una classica decorata. No, no, sono proprio comodissime. Ho scelto questo look perché trovo che abbia anche questa coerenza, no? Cioè, è una cosa che tu puoi mettere veramente tutti i giorni. Sei super chic, super elegante. Chiaramente con, insomma, un tocco di classe un po' in più rispetto al normale. Però è importante per Mathieu questo concetto di come tu sei. Quindi di essere al 100% te stesso. O comunque una versione potenziata di te stesso. Quindi forse la versione migliore. Però comunque io appena l'ho messo proprio mi sono sentita io. Mamma mia, sto posto pazzesco! Ciao Vogue, io sono pronta per andare alla sfilata. Ci vediamo alla prossima. Ciao Vogue!